Lorella Cuccarini ha preparato un pranzo leggero e veloce durante le prove del Festival di Sanremo 2024 per mantenere la forma fisica. La sua dieta si basa sgl'ascolto del corpo e sgl'adattamento consapevole delle abitudini di vita. In un recente post su Instagram ha condiviso il suo pranzo, un'insalata mista con pezzi di pollo e pane, sottolineando l'importanza dei carboidrati per l'energia. La personalizzazione di allenamento e dieta è fondamentale, e Cuccarini enfatizza la costanza nell'attività fisica, preferendo sessioni moderate ma regolari. La strada per una forma fisica invidiabile richiede costanza, equilibrio e pazienza, elementi che la Cuccarini ha incorporato nel suo stile di vita.